Ciao a tutti, siamo collegati dalla Meridiana con tre rappresentanti della Greenhouse. Ragazzi presentatevi. Buongiorno Giovanni, sono Giulio e Carmelo. Una partita che mi ha vissi contrapporvi con la White Widow, una partita combattuta fino alla fine, oserei dire infuocata, lasciando da parte qualsiasi riferimento ai nomi delle vostre squadre. Cosa ne pensate? Come è andato? È stato quasi un derby, però ce ne siamo date. Siamo date, però abbiamo vinto noi alla fine, dal 4 al 2 al 5 al 4, bello, vero? Sì, siamo stati una squadra che è a cuore, abbiamo portato fino all'ultimo. Facciamo le persone serie, abbiamo creduto e ce l'abbiamo fatta. Sì, questo si è visto sicuramente. Cosa devo dire? Per ora stiamo andando bene, stiamo vincendo. Una menzione al gol di qualche tuo compagno? Quanto è, la terza consecutiva o la seconda? Che è la seconda consecutiva che facciamo, la seconda vittoria. La seconda vittoria. Ragazzi, bocca al lupo per le prossime. Crepi, crepi. Ci vediamo dopo... Buon Natale. Buon Natale a tutti. Grazie. No, 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 ci serve. Ciao a tutti.